il principe ferri ha parlato del suo ruolo di padre e marito nell'episodio di apertura della nuova serie netflix art of invictus a pochi istanti dall'inizio del primo episodio di art of invictus il principe ferri sembrava snobbare il suo ruolo nella famiglia reale solo tre anni dopo essersi ritirato da the firm un intervistatore chiede come ti chiami al che lui risponde mi chiamo ferri al duca di sussex viene quindi chiesto cosa fai ferri poi non menziona il suo ruolo nella famiglia reale rispondendo invece cosa faccio ogni giorno sono papà di due bambini sotto i tre anni ho un paio di cani marito sto fondando patrono della invictus games foundation ci sono molti cappelli che si indossano ma credo che oggi sia tutto incentrato su invictus il momento arriva prima che ferri faccia una sottile frecciata alla sua famiglia sostenendo che non lo hanno sostenuto quando si è sbrogliato al suo ritorno dall'afghanistan il principe ferri ha detto agli spettatori posso parlare solo della mia esperienza personale del mio tour in afghanistan nel 2011 pilotando gli apash da qualche parte dopo c'è stato un disfacimento il fattore scatenante per me è stato il ritorno dall'afghanistan ma le cose che venivano fuori riguardavano l'età di il 1997 l'età di 12 anni perdere mia madre così giovane non sono mai stata veramente consapevole del trauma che ho avuto non se ne è mai parlato non ne ne ho parlato e l'ho represso come avrebbe fatto la maggior parte dei giovani grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.